sognare si può buongiorno ben trovati buon inizio settimana e ben trovata la nostra carissima carla buongiorno ben arrivata buon lunedì ce ne stavamo raccontando di ogni su questo questo tempo sul vento su tutte le cose tutti i pensieri no tutte le situazioni d'altra parte la primavera è arrivata adesso bisogna ravanare ancora di più tra la rumenta che tu ami tanto noi siamo affezionati ormai al tuo modo di chiamare le cose a cui dai una seconda opportunità quindi siamo con Carla nouvelle chance ogni giorno è una seconda possibilità e oggi chiacchieriamo di un altro argomento intanto voglio iniziare subito quanto chiacchiero adesso ti do la parola e voglio iniziare subito a salutare tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno e tutti i nostri amici dei vari gruppi che ci seguono quindi l'angolo del confronto un saluto un ringraziamento ad andrea fiore al suo gruppo grazie per le condivisioni gente per bene torino vip è un saluto ringraziamento particolare vanno naturalmente come sempre a Gianni Ricci Radio Moncalieri e Radio Stella Piemonti www.radiomoncalieri.net eccomi qua e allora raccontami come se riepiloghiamo è piaciuto molto ai nostri ascoltatori il riferimento che abbiamo fatto la scorsa puntata alle passioni dei vip per per diciamo la moda second hand si chiama adesso ma comunque il vintage di seconda mano è un pochino un pensiero di cui noi abbiamo parlato lo scorso anno che hanno abbracciato in tanti è vero sì è vero anche perché non la volta scorsa non abbiamo detto ma è venuto in mente poi dopo il particolare del second hand chi lo pratica lo sa e che si trovano delle cose abbastanza uniche e sì e che non trovi altrove sono uniche non è la moda di quell'anno sono particolari sono fatte a mano sono di sartoria magari non altissima ma bravissime sartine o qualcuno che se l'è fatto in proprio e poi l'ha dato via per perché ha cambiato misura e sono cose proprio uniche ma sono veramente uniche esatto e tra l'altro ci sono proprio perché uniche degli abbinamenti si possono fare assolutamente particolari anche perché abbiamo la possibilità di accostare anche proprio periodi diversi e quindi chiaramente ci sono delle combinazioni che difficilmente saranno state mai fatte prima sì perché l'anno in cui si usano i pantaloni stretti non li trovi a zampa e l'anno in cui i maglioni sono aderenti non li trovi larghi da me puoi accostare uno stile anni 70 sotto magari pantaloni a zampa col maglione largo anni 80 che negli anni 70 negli anni 80 avresti potuto fare no infatti è anche questo è un aspetto che abbiamo avuto modo così di poter anche solo sfiorare perché chiaramente se ci fermassimo ad approfondire ogni argomento non ci basterebbero le ore per parlarne però è anche questo è un aspetto molto molto bello allora nouvelle chance lo ricordiamo nasce dal tuo sogno che è anche una filosofia un pochino di vita no che tu segui da sempre che è quella di dare una seconda possibilità alle cose e nel tuo caso agli abiti all'abbigliamento però non è solo questo perché appunto per te è proprio una passione che arriva lo ricordiamo da quando da sempre da quando eri piccolina quindi te la porti dietro da tanto ci sono cresciuta e l'ho fatta mia e sono molto soddisfatta di questo e anche le mie clienti lo sono devo dire chi mi frequenta e frequenta abitualmente il negozio lo sa quanto io ami la mia rumenta l'amano anche loro no no è bellissimo mi piace tantissimo questo tuo modo appunto di raccontarla la tua rumenta tra virgolette in cui andare a ravanare a ravanare certo in via vibo 44 assolutamente nouvelle chance che tra l'altro è il nome e racchiude anche anche il nome racchiude il tuo spirito nuova possibilità nuova chance nuova chance esatto e quindi se vi trovate a passeggiare e anzi potete anche andarci apposta in borgo vittoria e avete voglia di andare a curiosare di regalarvi dieci minuti quarto d'ora per voi andare a cercare qualcosa di speciale di particolare passate a trovare la nostra Carla la nouvelle chance e ritornateci nel caso in cui non trovaste perché io ho rifornimenti abbastanza continui e non ho mai le stesse cose una volta che non si trova si può trovare la volta dopo esatto perché io non ne ho la minima idea di che cosa è proprio una sorpresa è una sorpresa sì sì è una cosa veramente particolare no entrare e non sapere esattamente che cosa possiamo trovare si può chiedere è lecito chiedere ahi mica una maglia giura è lecito potrei averla come no potrei averla in futuro no però la cosa esatto che mi affascina è che effettivamente tra tante cose che hai perché lo ricordiamo hai veramente tanta scelta tanti tanti abiti c'è tanto maglie camicie c'è di tutto sì io ho fatto il conto che più o meno ho un migliaio di pezzi appesi all'incirca da contatto da quanti appendi abiti sono ho le scatole so quante ce ne sono in base a cosa e per cui voglio dire non è che manchino le cose e abbiamo proprio la possibilità di trovare al di là di quello che magari stiamo cercando ma anche qualcosa di inaspettato no una bella sorpresa per noi quindi ci conviene fare un salto di tanto in tanto a vedere che cosa possiamo trovare un saluto ciao Bruna Maria un abbraccione grazie per essere con noi tra l'altro oggi invece volevamo approfondire un altro argomento ed è l'approccio col cliente diciamo che quello che ho potuto così un pochino immaginare da quello che ci siamo detti nell'arco di questi nostri appuntamenti è che sicuramente tu hai un rapporto dal mio punto di vista molto bello lo crei un rapporto costruttivo con le tue clienti oserei dire quasi amichevole ecco me spero di essere vista ma io ho una filosofia mia personale che deriva come l'avevo già detto in altre occasioni dall'essere stata cliente ovviamente per cui pensare come vorrei essere trattata poi non è che è una questione di buon senso è ovvio che il cliente non si tratta male e a volte anche quando è indisponente perché può capitare perché poi magari viene spontaneo e mi ha fatto venire il nervoso però magari quella persona si è alzata col piede storto come ti alzi anche tu e amen sorridiamo lo stesso alla signora sovente viene da sorridere anche lei se tu accogli qualcuno sorridendo normalmente ti viene risposto col sorriso ma non è ipocrisia io devo vendere per cui devo sempre essere gentile no no è proprio una questione di approccio anche con la vita se sorridi il mondo mediamente ti sorride ovvio che la cosa non piacevole arriva lo stesso ma molto meno e si tollera anche molto meglio io cerco di non essere mai sgarbata mediamente ovviamente oltretutto neanche sgarbata non mi è mai capitato di avere clienti sgarbate che mi rispondessero male però ci sono cose che magari una cliente fa determinate cose esce e l'altra dice come fa a sopportarla il più delle volte sono indecisioni le indecisioni io questo l'avevo già detto cioè fanno tirare fuori molte clienti fanno tirare fuori tante cose poi sono indecise le provano e poi le lasciano lì e si vede che non le piacevano cioè che colpa ne hanno la vedono e poi addosso non piace magari sono persone indecise di natura il mio lavoro io prendo e riappendo ma questo senza sforzarmi perché è lecito essere indecisi questo l'ho sempre detto e poi non è veramente non è una questione di ipocrisia di grandissimo sforzo di non rispondere male di essere gentile e tollerante mi viene abbastanza spontaneo e poi mi metto nei loro panni appunto l'indecisione oppure la persona che è un pochettino sgarbata e magari ha aspettato un'ora il pullman e nella pausa pranzo non gliene va una dritta perché devo essere anche io io sorrido e il più delle volte va via sorridendo anche lei almeno non ha avuto un altro sgarbo nella giornata a me costa niente sorridere no ma infatti mi piace molto questo approccio tra l'altro voglio fare un salutone grandissimo alla nostra Cinzia Massa grazie Cinzia a tutti i nostri amici come dicevamo dell'angolo del confronto ciao Gabriella, Rita e tutti quanti voi è molto bello ed è un pochino quello che anche io cerco nel mio piccolo di fare, il sorriso quando noi anche siamo le volte e capita a tutti siamo esseri umani siamo un pochino rabbuiati ci siamo alzati magari un po' più tristi magari ci è andata storta quella cosa o due ci aspettavamo qualcosa di diverso se incontriamo qualcuno che ci sorride in qualche modo è come se accendesse un po' la luce perché in generale a me capita quando incontro qualcuno e sorride la persona mi sorride di rimando e quindi è come un'energia che si autoalimenta poi si lavora proprio male calcolando oltretutto che non è a caso il cliente in fondo è il tuo datore di lavoro cioè tu lavori per lui ma è lui che ti porta qualcosa per cui si è anche un attimo tollerante sorridente benevolo non è che a me è mai capitato una cliente che entrasse in negozio aggressiva con l'intento di bisticciare ti fa notare delle cose un prezzo che non gradiscono che non hai quello che vogliono loro in fondo è anche vero il prezzo uno può anche non gradirlo può anche farlo notare magari è vero non ho tutto quello che vogliono loro ti dirò non mi è mai capitato che qualcuno me lo dicesse malamente sono cose però che ti lasciano un po' così ma se rispondi col sorriso dall'altra parte ti ritorna la stessa merce costa uguale hai molto di più in ritorno se rispondi col sorriso ovvio che capita sempre quella giornata anche a me dove subito fai fatica ma è un esercizio che mi è talmente naturale che non riesco più di tanto a farmi trascinare e mi trovo bene a fare così perché poi sto meglio anch'io esatto dal mio punto di vista è una delle cose più importanti adesso noi stiamo parlando dell'ambito dell'approccio che si ha col cliente però in generale è secondo me una filosofia che aiuta tanto proprio nella nostra vita perché altrimenti noi dicevamo anche fuori onda abbiamo già talmente tanti motivi per essere un po' arrabbiati per essere delusi purtroppo insomma è che la vita come giustamente dicevi tu non è sempre semplice quindi è veramente importante cercare un approccio che aiuti anche noi un approccio sereno un approccio col sorriso che come dicevi giustamente tu al massimo ti torna indietro come dire un sorriso in più ecco ma sì di fatti questo è sicuramente qualcosa di molto molto importante sì perché poi essere scortesi serve proprio a nulla cioè la persona ha detto la cosina che a te non è piaciuta tanto che magari non è neanche voluta è sovrappensiero e rispondi scortesemente non ti porta veramente a nulla non è è meglio è meglio sì davvero è meglio il sorriso ma sì concordo come ripeto è un po' è un po' la mia filosofia infatti in questo mi trovo molto molto in linea con quelli che sono i tuoi pensieri da questo punto di vista proprio perché sorridendo noi non possiamo che regalarsi una chance no un'altra chance un'altra chance sì e quindi mi piace sì mi piace molto per quanto giustamente come dicevi tu delle volte magari non sempre si è immediatamente no propositivi o magari c'è la volta in cui giustamente si è un pochino più stanchi si è un pochino più e quindi non è che ti venga immediatamente magari ci devi pensare però mi è piaciuto molto anche il termine che è usato no è un esercizio che ci migliora la vita ed è ed è vero perché comunque una persona che viene a trovarti si trova accolta col sorriso magari anche quel giorno in cui non era esattamente di buon umore di sicuro avrà più piacere di tornare a trovarti proprio per questo scambio di energia bella che che certi meccanismi creano ma sì perché tanto ti ripeto non serve nulla c'è da me si entra per comprare abbigliamento per dare un'occhiata per curiosare perché serve qualcosa perché non si vuole spendere tanto perché per vedere qualcosa originale tanti motivi che non ce n'è uno brutto e per cui io se entra una cliente che sono contenta per me lavoro che motivo ho di non sorridere anche se magari questa persona beh ovvio non è che abbia il sorriso ve te stampato in faccia ma no certo che no è una questione di anteggiamento esatto ma a me fa piacere davvero di incontrare una persona nuova o di rivedere una persona che magari di tanto in tanto passa a trovarti perché come dicevamo una delle cose importanti nel tuo ambito è proprio quello di tornare a trovarti proprio perché ce l'hai spiegata tante volte ma io la trovo tutto questo molto affascinante perché da una settimana all'altra dopo qualche giorno insomma le cose che noi potremmo trovare sono completamente magari diverse rispetto a quello che abbiamo già visto qualcosa rimane perché non è che svuoti il negozio da una settimana all'altra non vorrei che si fraintendesse questo ci sono sempre aggiunte sono continuamente aggiunte io tutti i giorni perché come ho già detto rimetto un po' a posto riguardo non si può prendere dal sacco e mettere lì bisogna guardare per cui questi sacchi rimangono in decantazione molto tempo perché ogni pezzo va guardato e riguardato cerco di mettere fuori le cose che sono a posto che non hanno strappini che non manchino bottoni che siano in ordine ci piega un pochettino per cui a ogni rifornimento le cose escono purtroppo un po' per volta sarebbe comodo nel nuovo è diverso arriva il rifornimento dai un'occhiata ma esce tutto da meno no ma allora io vorrei che rimane nel reto la nostra comunicazione fosse positiva è positiva infatti non è è proprio diverso quindi sono due cammini sono due cose diverse ciao Luana un abbraccione grazie per essere con noi e trovate sempre cose diverse per questo sicuramente perché completamente no ma qualcosa di nuovo c'è continuamente esatto ma poi è proprio un'altra forma mentis perché se tu vai in un negozio nuovo hai non so tutte le maglie arancioni di quel modello lì tutte uguali tutte le taglie eccetera cioè nel senso sono proprio due realtà diverse e solo che ma sai perché l'ho messo in evidenza questo dica dica perché molte clienti addirittura dei colleghi l'intorno non quando hanno visto quello che c'è dietro si sono stupiti molti hanno detto ah ma lei è per forza perché essendo usato c'è un fornitore che fa una cernita guarda sicuramente ma può sfuggire continuamente qualcosa per cui c'è un'attenzione più elevata più elevata e per questo un po' per volta però c'è continuamente qualcosa di nuovo ma è questo che mi interessava sottolineare perché sono due come dicevamo due realtà completamente diverse entrambe bellissime però in questo caso noi abbiamo la possibilità magari di trovare qualcosa di nuovo che magari la settimana prima non c'era non c'era quindi magari non abbiamo avuto modo di incontrarla no la differenza è che in un negozio nuovo quelli sono i modelli nella stagione bene o male una volta arrivati quelli sono per un certo periodo di tempo taglia non taglia però quelli sono la differenza è che se noi magari abbiamo voglia di regalarci quei cinque minuti e cercare qualcosa che non sappiamo magari neanche noi cosa adesso al di là del fatto come giustamente dicevi tu che ci sono che se hai bisogno di qualcosa abbiamo abbiamo la nostra sorridente Carla che cerchiamo che esatto che sicuramente ci aiuta a cercare quello che ci serve però è anche vero che alle volte non so non sappiamo neanche noi abbiamo un po' come i cioccolatini abbiamo voglia di qualcosa di buono ma non sappiamo esattamente cosa lì c'è da da rasparlo esatto abbiamo e abbiamo insomma è importante anche questo aspetto no bellissimo insomma che che mi piace mettere in in evidenza perché insomma è un aspetto molto importante ma di fatti principalmente quello che attira le signore che amano vintage seconda mano chiamiamolo come vogliamo è proprio quello il fatto di andare a cercare la cosa particolare poi sì c'è anche chi chiede qualcosa ma principalmente quello che io sento quando entra la cliente posso dare un'occhiata ma sì perché è in assoluto la cosa che sento di più perché almeno io parlo per il mio sentire quando entro in un luogo così non lo so neanche io che cosa si guarda non so che cosa cerco a volte magari sì magari un vestito magari una giacca ma però tante volte hai proprio voglia di qualcosa di buono tra virgolette di qualcosa che ti faccia stare bene e che non sai esattamente magari qual è ma che andando a guardare a ravanare no magari ti casca l'occhio su una cosina che mai più pensavi mai più pensavi però diciamo che ognuno ha il suo stile normalmente c'è chi se le maglie non sono più che decorate proprio con tante decorazioni coloratissime le mette chi cerca il semplice l'essenziale e lì guardi scarti quello che non ti interessa sei attratto da quello che ti interessa lì c'è un po' sempre misto di tutto è certo trovi trovi di tutto trovi là sì ed è questo secondo me il valore aggiunto di andare a cercare quando soprattutto magari non sai esattamente quello che vuoi no perché potresti rimanere particolarmente stupito dopodiché anche quando tu sai che cosa vuoi magari però a quel punto approfittiamo di Carla e glielo chiediamo però capita perché poi noi donne siamo uniche per queste cose molto più degli uomini e che non ci sia o magari c'è ma non della taglia non del colore giusto non è escono con qualcos'altro e lo so che mi dico ma io ero entrata per una giacca però questo è così bello era proprio quello che mi sarebbe piaciuto ne avevo uno non c'è sono varie le motivazioni oppure sì 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 i top così quando li trovo li compro perché poi mi piace non so che li metto c'è sempre c'è sempre una ragione c'è sempre qualcosa che ci accende e poi hai ragione noi donne siamo un po' più così nel senso che ah sì gli uomini magari c'è loro escono per comprare la camicia e tornano con la camicia vanno via invece noi no noi no noi abbiamo bisogno cioè bisogno è proprio affettuoso detto ci piace ci piace ci gratifica ci fa stare bene no è forse un po' consolatorio per noi no questo più che non per magari gli uomini si consolano più cambiando i tergi cristalli alla macchina la sparo proprio così magari hanno altri settori in cui magari si gratificano questo in generale poi invece magari c'è anche l'uomo che invece noi donne siamo per la maggior parte siamo proprio così ma io ho una serie di è vero mediamente così ho una serie di clienti uomini che vengono a raspare non ne ho tantissimi ah qualcuno qualcuno c'è che vengono periodicamente guardano tutto il rapporto sarà su cento clienti una decina forse anche meno però ci sono ah meno male qualcuno che ci qualche uomo che sta imparando oppure che è anche questa natura ciao Lucia un abbracione grazie per essere con noi e poi ho qualche cliente uomo che è tanto carino io li apprezzo tanto mi mettono tenerezza che lo fanno per la compagna la moglie le figlie che bello questo gesto gentile no? se c'è qualcosa se c'è qualcosa a volte prendono a volte poi dicono no no me lo tenga da parte porto poi qualcuno c'è e lo trovo molto molto bello che bello però molto molto interessante perché per esempio vedi mi piace questo fatto di sentire raccontare dall'interno perché pensavo ce ne fossero ancora di meno cioè no no di meno di sempre gli stessi e mediamente quelli che conosco almeno certo certo quindi in proporzione sono sempre loro e però vedi che diventa una clientela affezionata una volta che hanno preso gusto diciamo in questo venire a scegliere cercare si ritornano ed è poi quello che noi insieme ai conti cerchiamo di raccontare no c'è proprio l'importanza di tornare proprio perché però chi frequenta lo sa è che è così sì sì ma noi lo raccontiamo a tutti quello che ci scusano noi lo raccontiamo sicuramente perché chiaramente i tuoi i tuoi clienti le persone che già ti conoscono già sanno come come devono fare no mentre per gli altri magari è più nuovo come atteggiamento sì è vero hai ragione io do per scontato che tutti ci vadano in questo tipo di invece magari c'è chi non è mai andato ed è incuriosito ma ti dico questo e poi magari questo aspetto lo approfondiremo prossimamente in realtà adesso sono diversi anni che molte persone sempre di più si avvicinano a questo tipo di mercato per i motivi più svariati un po' perché amano il vintage un po' perché ci tengono magari a limitare lo spreco un po' perché hanno piacere magari di trovare pezzi unici un po' anche alle volte anche per risparmiare qualche soldino ci sono tante tante varianti tanti motivi che muovono le persone in questa direzione che è nuova rispetto al periodo di consumismo sfrenato che abbiamo traspassato dopo la guerra mentre nel passato era così si teneva tutto con cura e poi le cose si passavano magari a fratelli sorelle amici c'era questo passaggio che via via con questa fase di consumismo sfrenato attraverso la quale siamo passati è un po' cambiato come atteggiamento ci si è un po' allontanati e adesso stiamo tornando secondo me a dare valore alle cose e quindi donandogli questa seconda chance di cui parliamo anche perché lo spreco e l'inquinamento perché comunque lo abbiamo detto anche negli altri appuntamenti c'è questo aspetto perché creare e continuare a produrre infatti adesso molti stati pensano di porre un freno alla fast fashion e di stamattina la notizia dell'intenzione di tassare per non incentivare una produzione illimitata per poi dover smaltire nei famosi deserti esatto e creare ulteriori montagne di anche soprattutto di pessima qualità è difficile da smaltire esatto mi togli le parole di bocca perché quando parliamo di certi materiali tra l'altro diventa poi complicato smaltirli qualcosa della fast fashion ovviamente o anch'io perché seconda mano vuol dire tutto certo c'è l'anni 80 l'anni 90 e c'è anche qualcosa di fast fashion ecco però da me non è la norma c'è anche c'è qualcosina principalmente no purtroppo io nei sacchi trovo di tutto trovo anche quello però anche quello se viene se viene riproposto riutilizzato prima che finisca in discarica esatto almeno una cosa meno in discarica e poi non sono da discarica alcune cose sono anche carine assolutamente della fast fashion si conoscono non li nomino si conoscono ma sia cosa mi arriva dirò che qualcosa è anche carino ma io credo l'hai appena detto non credo non sono mai categorica proprio per il motivo che hai detto perché uno se le cose vengono riutilizzate intanto già hanno un altro approccio nel mondo in generale no? e uno e due non tutto è brutto chi l'ha detto che tutto è brutto no 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 alcune cose anzi ho inventato un paio di pezzi che sono proprio carini e poi non c'è un po' di tutto da me oggi ho maneggiato per esempio parecchi capi chiaramente dall'etichetta non saprei identificarli ma al minimo ogni 80 non oltre i 90 avevano le etichette diverse eccola lì non c'era l'etichetta lunga così plurilingue perché le produzioni erano molto più limitate hanno made in Italy scritto in un'altra maniera sovente sono ricamate vedi proprio la differenza altro che sì sì sono ne ho maneggiate parecchi ho detto ma guarda sono proprio contenta ebbene ebbene quindi è ora di fare un altro giro tra l'altro siamo arrivati alla fine della nostra checcherata e vorrei anche approfittare in questa puntata per fare a tutti quanti gli auguri di buona Pasqua è certo perché noi l'unico prossimo esatto ci rivedremo dopo Pasqua perché abbiamo Pasqua e Pasquetta e che eccole qua le uova eccetera quindi se dovete fare un regalo un pensiero e volete fare qualcosa di diverso andate a cercare qualcosina degli anni 80 90 sono appena arrivati perché no sì c'è quello e c'è anche altro ma sì scherzo naturalmente dicevo solo che questa è una cosa che mi piace sempre trovare capi un po' più d'antan ebbene sì allora noi ci salutiamo seguiteci per sapere quando torneremo e vi facciamo tanti auguri di buona Pasqua buone feste quindi e a prestissimo mi raccomando con nouvelle chance la nuova la nostra Carla a Torino via via Vibo 44 se passate mi dite che passate con tramite Sognare si può vi offro volentieri un caffè eccoci andiamoci a prendere un caffè dalla nostra Carla con molto molto piacere grazie per essere stata con noi grazie per tutte queste perle per queste anche così questi aspetti un po' fuori dal normale che ci porti raccontandoci no di tutte le particolarità che nel nel tempo accadono alla prossima Sognare si può buone feste ciao ciao